12 associazioni in gara per combattere l'indifferenza, quella che quotidianamente rende la vita difficile alle persone diversamente abili e alza un muro difficile da abbattere. A Teramo torna giochi senza barriere, la tradizionale sfida all'indifferenza che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rapporto tra sport, giochi e disabilità, rimuovendo i vari pregiudizi esistenti su questo tema. L'iniziativa è curata dal Centro Servizi per il Volontariato di Teramo insieme a Comune e Prefettura di Teramo. È una battaglia non solo contro l'indifferenza perché è un'occasione per mostrare quello che le associazioni fanno e le problematiche che portano con sé, ma soprattutto è anche occasione per far riportare al centro della città i valori che sono connaturati alle associazioni e al volontariato in genere. Ma dopo 11 anni questa indifferenza è un po' meno forte? Noi pensiamo proprio di sì perché anche la partecipazione del pubblico è sempre più numerosa, è sempre più partecipata e che significa che qualcosa sta passando. Anche in questa undicesima edizione di Giochi senza barriere le associazioni di disabili della provincia di Teramo si ritroveranno in Piazza Martire della Libertà per vivere una serata di solidarietà, di risate, giochi, amicizia e sport. Di cosa si occupa, credete? Allora, questa è una situazione che è nata tempo fa grazie a Federico Di Francesco, arbitro di Serie A di basket, una delle nostre eccellenze terramane, per dare una mano ai ragazzi delle nostre scuole ad evolvere, a fargli vedere che anche in una città piccola come Teramo ci se la può fare. Poi gli ho chiesto aiuto per organizzare una partita del cuore, una partita di beneficenza per finanziare un bel progetto che ha l'Anfas per integrare i servizi che offre per l'autismo. Quindi siccome stavo organizzando una raccolta fondi con un'asta benefica, con delle maglie di importanti campioni fotografate, lui si è messo al mio fianco per cercare di creare qualcosa ancora di più corposo. Mi ha detto, guarda, usiamo la nostra associazione che già esiste, quindi mi ha fatto presidente, sono diventato presidente per portare avanti questo progetto e quindi speriamo di poter fare ogni anno una raccolta fondi a sostegno delle associazioni che si occupano di autismo. Con i ragazzi della linea progettuale verso l'autonomia ha preparato il gioco della pentolaccia, un gioco della tradizione che i ragazzi hanno realizzato presso i laboratori artistici manifatturieri scegliendo un tema, quest'anno il tema sono le vacanze, quindi questi contenitori sono stati realizzati appunto con delle tematiche che riguardano il mare, la montagna e le città d'arte, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e alla ricerca di nuove modalità espressive. Grazie 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 Grazie